Il prossimo 23 agosto, nella solita location di Largo Campanile a Manduria, si terrà la serata finale del Festival Internazionale di Cortometraggi a Spasso tra le Nuvole, premio Stefano Contessa giunto alla quinta edizione. Quali sono innanzitutto le novità di questa edizione 2017? Quest'anno abbiamo due differenti sezioni, in una sezione viene premiato come al solito il miglior cortometraggio, mentre nell'altra viene premiato il miglior video animato, poiché abbiamo visto che c'è una gran quantità di produzione in questo settore e quindi abbiamo ritenuto opportuno dedicare un'intera area del Festival all'animazione. I cortometraggi sono arrivati veramente da ogni parte del mondo, abbiamo quasi 300 cortometraggi visionati e c'è un materiale veramente impressionante, anche se poi il tutto si deve ridurre ai 12-13 prodotti che verranno visionati in quella serata. Ogni anno il lavoro della giuria è sicuramente sempre più difficile? Non lo so se è sempre più difficile perché molte delle cose che arrivano, avendo affinato un certo fiuto nei confronti del prodotto, sappiamo abbastanza bene discernere quali sono le cose che proprio non possono andare, il che non vuol dire che il prodotto non sia valido, ce ne sono alcuni che tecnicamente sono veramente eccezionali, però sono privi di qualcosa che possa in qualche modo richiamare lo spirito del Festival e quindi noi tendiamo a scartare lavori che hanno questo tipo di impronta. In genere sono quelli che hanno una visione eccessivamente cupa della realtà e questo cozza con chi tenta di fornire comunque un ricordo positivo della persona a cui il Festival è dedicato, che era una persona estremamente positiva tra l'altro. Presidente di giuria quest'anno sarà il simpatico Gianni Ciardo, un presidente, possiamo definirlo fuori dagli schemi, che dobbiamo aspettarci il 23 agosto? Io non lo so perché Gianni Ciardo non ha voluto fare alcuna scaletta, quindi non so neanche se ha voglia di parlare o se starà seduto e sprecherà un po' di fiato quando staremo poi riuniti in Camera Caritatis. Lui non ha programmato alcunché e noi vedremo quello che vorrà dire o vorrà fare, sarà assolutamente libero. Poi volevo ricordare che nella giuria, oltre ai nomi già presenti negli scorsi anni, cioè quelli di Piero Calò, di Omar Di Monopoli e di Gemma Lanzo, oltre che il sottoscritto ci sarà anche quest'anno Mara Venuto, che è una giornalista e scrittrice che ci onora con la sua presenza da Taranto. Quindi tanti buoni motivi per venire a Largo Campanile a Manduria il 23 agosto. Ce lo auguriamo, sì certo. Comunque Manduria non ha mai fatto mancare la sua massiccia adesione a questo appuntamento e a maggior ragione questa volta ce ne attendiamo una ancora più massiccia, certo.